benvenuti e benvenute sono serena e sono un essetista nel video di oggi vi parlerò di questa crema alicciante ai fiori di arancio di mater natura prodotto certificato bio vegano prima di lasciarvi alla recensione di questo prodotto volevo consigliarvi di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina qui sotto per ricevere notifiche sui prossimi video questa crema ha un packaging da 100 ml e un pao di 12 mesi e questi sono gli ingredienti ovviamente è un prodotto bio quindi è inutile proprio guardare l'inci su yoga perché tanto sarà ottimo insomma è proprio inutile e adesso vi leggerò da internet più o meno quello che c'è scritto dietro anche perché è scritto in lingua straniera quindi non posso leggervelo da lì crema alicciante ai fiori d'arancio mater natura il prezzo è 14 euro e 90 a chi interessa insomma lo sto guardando direttamente dal sito di mater natura che tra l'altro ho visto che è cambiata la confezione adesso lo fanno diversa non so se riuscite a vedere un po' diversa rispetto alla mia insomma nutre e sostiene le onde per più giorni senza appesantire questo però dipende sempre dal tipo di capelli ovviamente crema senza risciacco specifica per rendere i ricci per rendere ricci i capelli mossi e per intensificare il riccio naturale setosa e profumata poi ti dicono ovviamente come utilizzarla distribuisci tra le mani la quantità prodotto desidera e fare scrunch che sarebbe questo che sarebbe questo movimento che si fanno sui ricci ancora umidi nel palmo delle mani dal basso verso le radici asciuga con diffusore per non alterare la definizione dei riccioli per un tocco naturale può applicare anche sulle ciocche asciutte a chi è indicato capelli ricci o mossi anche grassi maschili e femminili per un effetto sorprendente usano in combinazione con il gel definizione capelli aloe e frangipani di questa linea che io quindi non pude provare i tuoi ricci saranno definiti idratati a prova di molla ad un asciugatura ultimata applica solo sulla punte una goccia di fluido ad adante anticrespo all'equiseto neanche questo ce l'ho le tue punte saranno lucide e domate fissa l'acconciatura ottenuta con lo spessante capelli alla rosa i tuoi capelli rimarranno in forma più a lungo senza essere incollati sentirai che profumo per innovare l'effetto nei giorni seguenti usa il fluto modellante per capelli ricci col miele ora viva ricci veloce i tuoi capelli ritorneranno elastici come dopo averli appena lavati questa crema diciamo mi è stata regalata da un'amica che ha i capelli lisci e voleva cercare insomma con questa crema di renderli un po' mossi però non c'è riuscita mi ha detto e quindi me l'ha regalata e quindi siccome io uso il gel l'ardecimento di fructis e ho pensato di poterlo abbinare al gel e vedere più o meno insomma come andava perché sui capelli grassi la crema assolutamente sconsigliato anche se devo dire che questa crema non è pesante posso far vedere proprio com'è è una cremina molto leggera molto molto leggera non è una cosa pesante all'odore bellissimo sa di fiori fiori d'arancio proprio non è una crema pesante quindi comunque se avete dei capelli secchi e volete cercare di renderli mossi potrei consigliarvela però comunque dovete averli almeno mossi perché sennò il riccio non viene fuori se li avete ricci certo meglio ovviamente perché su capelli lisci per renderli mossi non va bene perché questa mia amica non c'è riuscita quindi è inutile che stiamo qui a prenderci in giro perché non va bene quindi io adesso vi spiego com'è la uso io così vi fate un'idea e così magari non ho sbagliato a utilizzare il prodotto allora quello che faccio io dopo aver lavato i capelli diciamo prendo questa ovviamente la quantità dipende da quanti capelli avete dallo spessore dei capelli uno o due clip dovrebbero bastare nel mio caso anche uno in pratica un clip divido i capelli in due zone un clip lo metto da un lato e un clip dall'altro e poi io oltre a fare scrunch passo anche la spazzola temman però mi raccomando prima di fare questo passaggio bagnate bene i capelli non dico grondanti ma quasi proprio ma meglio pure grondanti prendete uno spray e io l'ho preso su amazon il mio e lo spruzzate e spruzzate l'acqua sui capelli i capelli devono essere molto bagnati perché se le passate sui capelli che non sono bagnati rischiate che li ingrassate perché è una cosa che ho provato io e mi sentivo i capelli appesantiti quindi mi raccomando capelli molto bagnati dopo potete passare al gel hard cemento oppure un altro gel però io vi consiglio un gel molto strong perché insomma molto seccante perché così potete vedere i risultati migliori insomma secondo me quindi se usate già un gel idratante magari rischiate anche di idratare troppo e quindi io questo gel andavo ad utilizzare con un misurino da 2.5 ml questo è un set questo l'ho preso con un set di cucchiaini su amazon che magari vi lascio il link sotto così se lo volete vedere vi lascio questo link in descrizione così magari li potete anche acquistare io divido sempre i capelli in due parti da una parte metto un po' di prodotto insomma lo riempio tutto e metto il gel da una parte e poi un altro dall'altro e io con questa dose mi trovo bene di gel hard cemento devo dire che facendo in questo modo ovviamente dopo il gel passo di nuovo la spazzola d'emman e devo dire che facendo così i capelli non si ingrassano e vengono buoni anzi addirittura ho notato che insieme alla crema venivano un po' più ricci però dovete seguire alla lettera tutti i passaggi che vi ho detto quindi bagnate molto i capelli con lo spruzzino io vi consiglio spruzzino perché viene fatto meglio poi passate la crema la spazzola d'emman è facoltativo l'importante è che fate scrunch perché questo vi è avuto a creare riccio e poi potete passare la spazzola oppure passare direttamente al gel gel io uso due di questo da una parte e dall'altra poi fate di nuovo scrunch e passate la spazzola oppure no l'importante è che fate scrunch perché questo vi aiuta a creare riccio è importante e questo diciamo è tutto io mi trovo abbastanza bene facendo questi passaggi io personalmente sì ve la consiglio questa crema usandola in questo modo però se avete i capelli molto molto secchi e li avete mossi oici io farei un tentativo anche di utilizzarla da sola e vedere come si comporta certo la vedo leggerina non so quanto possa durare quindi comunque io vi consiglio di abbenarla sempre a qualcos'altro tipo magari una mousse o un altro gel perché la vedo molto leggera secondo me non dura nel tempo ecco potrebbe anche non ingrassarvi i capelli però non dura nel tempo secondo me perché soprattutto è una crema molto molto leggera quindi non lo so comunque usata in questo modo secondo me va benissimo certo il prezzo è un po' altino come tutte le cose biologiche purtroppo i prodotti biologici costano però giustamente sono tutti ingredienti naturali certificati bio poi le marche giustamente Maternatura è un'ottima marca quindi proprio niente da dire è un'ottima marca sicuramente io userei questa crema con gel molto astringente che rende i capelli molto secchi come ho detto prima questo è il consiglio così avrete un bilanciamento perché se lo usate con qualche prodotto più idratante rischiate di ingrassarli o comunque di non avere l'effetto desiderato almeno secondo me come altri abbinamenti non ne ho provato potevo utilizzarlo volendo sulla mousse della pella che un po' li secca i capelli però non ci ho provato quindi non vi so dire risultato secondo me col gel è perfetto con quel gel poi soprattutto però secondo me va bene anche con gel della Taffi che so che è molto astringente che secca molto i capelli non so poi altri gel non li conosco quindi non vi so dire certo dove leggete gel strong potrebbe andare bene probabilmente e questo è tutto ci vediamo presto con un prossimo video ciao 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 Grazie per la visione!